Buonasera, sono lieto che anche quest'anno il problema del cervello potrà essere affrontato con le sue complessità, la possibilità soprattutto di poter proteggerlo dalla nascita fino alla fine per cercare di evitare e di prevenire quelle che sono le principali malattie del sistema nervoso ma anche per poter educarci a farlo funzionare nel miglior modo possibile. Il cervello è questa macchina complessa che coordina tutto il nostro pensiero, il nostro movimento, le nostre azioni, i nostri sentimenti. È una macchina che è formata da milioni di neuroni, da milioni di cellule gliali che servono per poter nutrire i neuroni. Questi neuroni sono collegati tra di loro in maniera velocissima e in maniera potentissima per creare le connessioni che sono importanti nel nostro movimento, nelle nostre azioni, nel nostro pensiero e si raggruppano in alcuni nuclei che sono altamente specializzati e che hanno quindi un ruolo specifico nella nostra capacità di parlare, nella nostra capacità di ascoltare, nella nostra capacità di camminare, di muoverci in equilibrio, di poter rapidamente collegare varie sensazioni e varie funzioni con quelle che poi sono le attività profonde del nostro io, il nostro sentimento e il nostro pensiero. Quindi è una macchina molto complessa che dovremo educare a svilupparsi bene nella fase precoce dello sviluppo e che possiamo proteggere per poter evitare che si deteriori, ma che comunque dovremo imparare a mantenere in funzione. Come un'automobile deve fare il tagliando, così il nostro cervello dovrà essere aiutato a funzionare nel miglior modo possibile. Siamo alla metà di settembre, è il periodo in cui si va a scuola e quindi voglio soffermarmi in questa prima puntata sul ruolo che ha il cervello nell'educazione e su come l'educazione può plasmare il cervello per far sì che possa svilupparsi nel miglior modo possibile. Alcuni esperimenti che sono stati fatti nei ratti dimostrano che cervelli che sono ratti, che sono abituati a vivere in una situazione dove esistono molte sollecitazioni, sia funzionali con i colori, con il movimento eccetera, hanno un cervello più sviluppato con delle connessioni molto più sviluppate rispetto a ratti che vivono nella fase precoce dello sviluppo in una situazione deprivata di ogni tipo di sollecitazione. E quindi da questo deriva che è molto importante è che nella fase iniziale dello sviluppo noi diamo ai nostri bambini la possibilità di sviluppare il cervello nel miglior modo possibile, quindi di poter dare il maggior numero di sollecitazioni, di stimolarli in maniera tale che nella fase precoce in cui avviene lo sviluppo massivo del cervello le sinapsi si possono formare nel miglior modo possibile e quindi il cervello stimolato così potrà funzionare meglio e potrà essere poi successivamente protetto da certe alterazioni che possono intervenire. Voglio concludere con una raccomandazione a tutti i genitori di seguire in particolar modo e in maniera molto pressante lo sviluppo del cervello dei loro figli attraverso l'educazione, attraverso la scuola che ha un ruolo importantissimo. non è utile semplicemente per una certificazione che ci può dare per raggiungere un posto fisso ma è indispensabile come stimolo per poter attivare il nostro cervello per farci diventare più intelligenti, più capaci per utilizzarlo nel miglior modo possibile e per poterlo proteggere in caso di insulto perché se abbiamo più neuroni che funzionano meglio avremo più capacità di poter proteggere il cervello. Un grande attore e regista del premio Nobel del secolo scorso diceva che l'operaio conosce 200 parole il padrone ne conosce oltre 2000 e per questo lui è il padrone e l'operaio fa l'operaio cioè il padrone è quello che decide proprio attraverso la propria cultura e quindi se riusciamo a educarci attraverso la scuola noi avremo un cervello che funzionerà meglio e che potrà essere anche nella fase successiva essere protetto dagli eventuali insulti. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.